Kate Meadpleton e William, la maestra di George si è innamorata di lui. E scandalo. Kate Meadpleton ed il marito William sono di nuovo al centro della bufera. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe un nuovo innamoramento a palazzo e si tratta della maestra di George. Dopo lo scandalo del presunto tradimento di William, i dupi di Cambridge continuano a scioccare i sudditi e l'intera Inghilterra. Vediamo cosa sta accadendo. La maestra del piccolo George innamorata. L'indiscrezione. L'amore si sa, è cieco e colpisce chiunque, e questa volta la freccia di Cupido, sembra aver colpito la povera maestra del primo genito della coppia. La donna, Lucy Lannigan o Caffè, si sarebbe presa una forte cotta per un uomo molto vicino alla famiglia reale. Si tratta di Thomas Van Straubensee, uno dei migliori amici di William. Sembra inoltre che l'amore sia stato presto ricambiato, in quanto i due presto convoleranno a nozze. Secondo il Times, infatti, la cerimonia si svolgerà il prossimo settembre e Baby George e Baby Charlotte potrebbero avere un ruolo importante all'interno di essa. I due piccoli principini sono già stati pagetti. Prima le nozze di Pippa e Harry, poi di Beatrice di York e, infine, di Sophie Carter, una delle amiche più care di Kate. Nel frattempo girano voci su una nuova presunta gravidanza per Kate Middleton. A tal proposito, ecco la dichiarazione che ha fatto impazzire i tabloid inglesi, è la risposta del principe William sul quarto Royal Baby. Kate Middleton incinta per la quarta volta. Mentre le voci di crisi all'interno del matrimonio tra Kate Middleton e il principe William si infittiscono. I tabloid inglesi, sono letteralmente impazziti al sentire del possibile arrivo di un quarto Royal Baby in casa dei duchi di Cambridge. Secondo le indiscrezioni, infatti, Kate Middleton vorrebbe un altro figlio, anzi figlia per la precisione. Cresciuta insieme alla sorella Pippa, Kate sa bene quanto sia importante il rapporto tra sorelle, e vorrebbe regalare alla piccola Charlotte la stessa esperienza. D'altronde l'amore della Middleton per i bambini è chiaro in tutte le occasioni. Dopo aver aperto da poco un parco per i più piccoli e le famiglie, in una recente uscita in pubblico ha dichiarato. Mi viene voglia di avere un altro figlio, dopo aver incontrato un bimbo di 5 mesi. I motivi per allargare famiglia ci sarebbero tutti, e anche il piccolo Louis guadagnerebbe una compagna di giochi. Senza considerare che in questo modo Kate Middleton emulerebbe la sovrana, anch'essa madre di 4 figli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.